Una grande richiesta d'aiuto luminosa. 5 milioni di tappi usati di plastica colorata racchiusi in gabbioni metallici che formano la parola HELP su una superficie di 1500 metri quadri a Mozia, sull'isola di San Pantaleo nello Stagnone, di fronte a Marzala in Sicilia. È l'installazione di Maria Cristina Finucci che potrà vedere chi sorvolerà la Sicilia nord-occidentale dal 24 settembre all'8 gennaio 2017. HELP, l'età della plastica, è l'ultima provocazione dell'artista creata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'inquinamento causato dai rifiuti di plastica nei mari e negli oceani. È promossa e realizzata dalla Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo in collaborazione con la Fondazione WeTaker ed è l'ultima delle tappe del progetto Westland. Lo stato costituito da rifiuti è riconosciuto nel 2013 dall'UNESCO su richiesta dell'artista, una nazione ideale costituita dalle cinque isole formate dalla plastica dispersa negli oceani, la cui superficie totale è 16 milioni di chilometri quadrati.